Parte da Luigi Barba di Fontanelle, il triangolare finale che decreterà la quarta promossa nel campionato di eccellenza 2022-2023. Il Fontanelle vuole inseguire il sogno della prima promozione storica, il Montorrio vuole invece tornare tra le grandi da Abruzzo, a quattro anni di distanza dall'ultima volta. Sono queste le premesse della sfida tra le seconde della graduatoria, dei gironi ebbi di promozione. La formazione di mister Capitanio approda direttamente al triangolare, in virtù dei nove punti di distacco dal Mutignano, step intermedio per i gialloneri, che hanno dovuto faticare 120 minuti per piegare il San Gregorio al 119. Il primo tempo è ricco di intensità, all'ottavo i gialloneri protestano per un contatto in area, ad andare a terra in mano il disante. Per il direttore di gara Ludovico Esposito di Pescara non c'è nulla. Quattro minuti dopo arriva il vantaggio del Fontanelle. Antonacci sfrutta il lancio dalla linea mediana di Francia e in diagonale batte Bruno per l'1-0, facendo impazzire i sostenitori locali. Il Montorrio si riversa in avanti, ma al 17esimo è Bruno a bloccare una conclusione schiacciata di Francia. Al 25esimo Mosca ci prova dalla lunga distanza, controlla senza problemi modesti. Alla mezz'ora, sugli sviluppi di un corner, Antonacci si gira e conclude. Palla che bacia l'esterno della rete. Al 34esimo arriva la rete del Pari, siglata da Gabriele Fidanza, che sfrutta un cross dalla destra di Mosca e di testa batte Modesti per il gol che del via la rimonta giallonera. Ridolfi ha l'occasione per il vantaggio su un'incomprensione difensiva giallorossa. Non serve mano il disante e nemmeno passa cantando. Conclusione alta. Al 42esimo episodio da Moviola nell'area di casa. Vanno a terra Manuel Di Sante e Fidanza, ma per Esposito non c'è nulla, se non un fallo in attacco. Con le riprese di Mario Giacchetta passiamo al secondo tempo, che si apre con la traversa colpita dal solito Fidanza. La trama è la stessa del primo gol. Manuel Di Sante al nono si mette in proprio, converge verso il centro e lascia partire un tiro a giro, ma è solo corner, nel quale Ridolfi non trova la zampata vincente in mischia. Al 24esimo il Montorrio mette la freccia, con una conclusione di Davide Di Sante deviata, che diventa velenosissima e imprendibile, per un Modesti non al meglio della condizione fisica. Esplode lo spicchio dedicato ai tifosi ospiti e lo fa anche alla mezz'ora, quando Manuel Di Sante è lanciato sul filo del fuorigioco batte in diagonale Modesti, per l'1-3 finale. Reagisce il Fontanelle. Francia raccoglie un cross alla destra di Di Domenico, ma telefona a Bruno. Al 46esimo Samuele Di Sante con il sinistro prove a riaprire la sfida, conclusione che però non sortisce all'effetto sperato. Stessa sorte incontra la conclusione all'interno dell'area di Perini. Bruno è bravo ad opporsi con il corpo. Nell'ultimo minuto di gara Gridelli ha l'occasione per il poker, ma cestina così sull'osposizione di Marcozzi. Termina così, i primi tre punti del triangolare vanno al Montorrio. Il Fontanelle ora dovrà giocarsi tutto nella sfida di Ortona, domenica 5 maggio. Un martello pneumatico, dal primo all'ultimo minuto in telecronaca avrei voluto dire De Eugenio è capace di giocare in un match del genere. Magari, almeno mi sfogavo. Peccato quel gol che poi sapevamo la bravura loro dei tre davanti con Francia. Un taglio perfetto. Abbiamo fatto esercitazioni difensive sulla palla scoperta, palla dietro le spalle, eccetera, eccetera. Invece, vabbè, però poi la squadra ha giocato alla grande. Penso non hanno tirato, mi sembra non hanno tirato più in poche. Devo dire che nel secondo tempo c'è stata una importante supremazia da parte della squadra. Mister, in base ovviamente anche alla sua esperienza, ha fatto un po' la differenza l'aver giocato quel turno col San Gregorio, mentre loro si sono fermati ovviamente per merito qualche settimana prima? Non lo so, perché poi noi abbiamo finito per esempio la settimana prima, quindi queste non le decidiamo noi, ci dobbiamo adeguare. E noi è un mese che ci alleniamo senza giocare come loro, quindi. L'eccellenza la conosci bene, avete già piazzato le fondamenta. Ora avrete la possibilità non solo di riposare, ma di giocarvi l'eccellenza al Pigliacelli. Anzi, al Pigliacelli no, perché grazie a Dio il prossimo anno o tra qualche mese sarà un nuovo stadio. Però avrete la possibilità di giocarvela in casa. Ma questa squadra è pronta per l'eccellenza? Non lo so, però devo dire che quest'anno è stato un anno per noi durissimo. Senza campo abbiamo giocato Castelli, Isola, Tosticia, Castelnuovo. Ci siamo allenati, portavamo i palloni, quindi io penso che se lo merita il suo gruppo. Al di là di se sono pronti o no, diventeremo pronti se ce la facciamo. Mister, tanti saluti con gli avversari soprattutto e questo è un ottimo segnale, non solo da parte sua ma credo da parte di tutta la società. Quel gol dopo 13 minuti, bellissimo, loro ovviamente vi hanno studiato in questa settimana. Poi che cosa è mancato? Un po' di brillantezza. Facevo cenno al tanto periodo di inattività. È stato un bene o è stato un male? L'ho detto anche in altre occasioni. Probabilmente ci ha permesso un po' di recuperare qualche acciaccato, qualche infortunato che avevamo, anche se purtroppo nemmeno oggi siamo riusciti ad arrivare al completo e qualche assenza l'abbiamo pagata. Sicuramente non giocare un mese se un po' il ritmo lo vai a perdere. Però andati in vantaggio dovevamo fare meglio perché eravamo partiti bene, avevamo fatto gol su situazioni che avevamo provato per cui stavamo facendo bene. Poi abbiamo smesso di giocare e quando smetti di giocare il rischio che subisci i gol ci sta. Abbiamo preso l'1-1. Purtroppo poi abbiamo commesso troppi errori e quando sbagli soprattutto in queste partite... Sì, quel pallone perso davanti all'area di rigore è sanguinoso e soprattutto, non so se sto dicendo il vero, sul tiro di Di Sante ovviamente la spinta di Modesti è stata limitata da quel piccolo problema, però un portiere del genere non può uscire, tra virgolette, in un match così importante. Ha provato a stringere i denti, probabilmente fosse stato al 100% poteva arrivarci, non so, credo sia stato anche deviato, il tiro non è stato nemmeno fortunato, però ci sta, abbiamo fatto il massimo, potevamo fare meglio, è bello vincere ma bisogna anche saper perdere, facciamo i complimenti a loro, siamo contenti di quanto fatto.